Buongiorno, vi ringrazio per essere qui e per aver preso parte alla manifestazione Festa Scienza e Filosofia. Io sono Giorgia Marchionni e sono una collaboratrice del laboratorio sperimentale e oggi sono qui per presentarvi il professor Elius Buocca, il quale è un ricercatore universitario presso il Dipartimento di Fisica e responsabile del laboratorio universitario di nanomateriali dell'Università degli Studi di Perugia. Inoltre è associato all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sempre della sezione di Perugia. È ricercatore responsabile e coordinatore del gruppo di Perugia del progetto internazionale Virgo, che è un progetto volto alla rivelazione delle onde gravitazionali. È appunto un progetto nato dalla collaborazione tra fisici francesi e fisici italiani e ha come scopo la realizzazione di un interferometro con braccio di 3 km per la rivelazione delle onde gravitazionali. Tale progetto è stato costruito nel 2003 e questo impianto è situato nel territorio di Cascina. È anche autore di 5 brevetti e di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Io non mi dilungherei oltre e lascio la parola al professore. Alla fine della conferenza avrete spazio per domande, chiarimenti o comunque sia anche per delle curiosità. Appunto non vado oltre e è un onore e un piacere per me presentarvi il professor Buocca. Buon proseguimento e vi ringrazio per l'attenzione. Buongiorno a tutti, intanto è un piacere essere qui. Sembra chissà che da come sono stato descritto, ma comunque ringrazio gli organizzatori. È sempre importante avere questo tipo di eventi perché divulgare ciò che si fa è fondamentale. È fondamentale per vari motivi. Non fosse altro che spesso e volentieri. Noi lavoriamo chiusi dentro le nostre stanze, dentro i nostri laboratori e spesso non c'è un dialogo verso l'esterno e non si capisce, pare chissà che facciamo. In realtà quello che facciamo è molto vicino alla vita quotidiana di ognuno di noi. Quindi speriamo di divertirci, spero di accompagnarvi in questo viaggio verso la rivelazione delle onde gravitazionali. La cosa importante, mi auguro che questo sia anche un dialogo. Quindi io parlerò, interrompetemi quando volete e cerchiamo di instaurare un dialogo per far sì che quello che dico sia il più possibile colto da voi anche in aspetti che magari possano sembrare stravaganti. Quindi cominciamo da questo signore, questo signore che vestiva in maniera buffa tra 1600 e 1700, è stato chiaramente uno dei più, anzi sicuramente uno dei più grandi fisici della storia, perfino più grande di Galileo. Io, insomma, Galileo è stato un colosso, però Newton è stato perfino più grande di Galileo. Una persona un po' stravagante, diciamo, per chi ha letto la biografia, oppure vi consiglio per chi non l'ha letta di leggerla, è una persona particolare. Oltre ad aver lavorato in molti aspetti della fisica e non solo, alla fine della sua vita addirittura si è messo a fare l'astrologo. In quel tempo era abbastanza comune che i fisici e gli astronomi poi diventassero anche astrologi, perché bisognava sbarcare il lunario e quindi spesso si vendevano anche diciamo gli oroscopi. Allora, questo signore ha formulato, è stato il primo, a aver capito che la forza di gravità era una forza, cioè che questa attrazione dei corpi, il fatto che noi camminiamo su questa grande sfera, riusciamo a rimanere attaccati a questa grande sfera, tutto ciò che noi lasciamo cade verso la Terra è dovuto a una forza, questa è stata una grande astrazione, è stata forse una delle più grandi astrazioni che a quel tempo è stata fatta, che ha permesso poi di sviluppare tutta una branca della fisica enorme. Quindi di fatto la storia della gravitazione nasce con il signor Newton e nonostante appunto in quegli anni ancora non fosse chiaro quale fosse il modello chiaramente planetario, insomma il modello astronomico, c'era una lotta abbastanza diciamo aspra tra i vari modelli, questo tipo, questa formula, questa idea della forza che attira i corpi, grazie proprio a una proprietà che è la massa, ha permesso poi di capire esattamente la dinamica dei pianeti, del sistema solare, ma non solo del sistema solare, anche di corpi estremamente più lontani. Considerate che la dinamica per esempio delle galassie di fatto è dominata ancora dalla meccanica di Newton, ci sono delle approssimazioni che possiamo fare con la relatività, eccetera, però di fatto alla base c'è ancora la fisica di Newton, quindi quell'equazione di Newton. Addirittura con quell'equazione si è scoperto che da come questi oggetti ruotano intorno al centro si è scoperto addirittura che c'è una massa che noi non vediamo, che è mancante, che addirittura chiamiamo materia oscura. Quindi la fisica moderna è estremamente legata ancora a Newton. Alla fine dell'Ottocento nasce questo personaggio, un altro personaggio abbastanza stravagante, molto diverso da Newton chiaramente. Questo personaggio ha fatto delle teorie in pochi anni, in 4-5 anni ha fatto delle teorie che sono dei pilastri in vari campi della fisica. È noto spesso per la teoria della relatività, ristretta o generale, in realtà ha fatto una quantità di lavori notevoli in moltissimi campi, considerate che lui è stato sostanzialmente quello che ha fatto nascere anche la meccanica quantistica con il principio fotelettrico. Questo signore ha generalizzato la teoria della relatività che in realtà inizialmente era di Galileo, l'ha resa molto più generale e rendendola molto più generale ha scoperto una cosa fondamentale che ha cambiato il nostro approccio verso lo spazio e il tempo. La cosa fondamentale è stata che lui si è reso conto che la luce si propaga comunque sempre alla stessa velocità, in qualunque sistema di riferimento noi consideriamo. Questa è una cosa enorme, considerate che in quel tempo chiaramente il tempo era ancora assoluto, si considerava che il tempo fosse assoluto. Dire che una velocità è sempre la stessa, siccome la velocità, voi sapete da che cosa è data la velocità, gli studenti sanno sicuramente che la velocità è che cosa? Uno spazio fratto un tempo. Quindi se la velocità è costante che vuol dire? Che il rapporto spazio fratto tempo è costante, quindi se varia lo spazio deve variare anche il tempo. Quindi questo concetto è un concetto che ha cambiato drasticamente il concetto di spazio-tempo, tant'è vero che da allora è nata proprio l'idea dello spazio-tempo, non si parla più di spazio, non si parla più di tempo, ma si parla di spazio e tempo, sono estremamente correlati l'uno con l'altro e tant'è vero che poi anche le teorie più moderne, per esempio l'idea del Big Bang o l'universo a bolle, insomma quelle delle teorie proprio che nascono, diciamo, che continuano a nascere anche oggi, sono tutte teorie che legano ovviamente lo spazio e il tempo, per cui sì, ormai è abbastanza chiaro che prima della nascita dell'universo non è che l'universo è nato a un certo tempo, l'universo è nato con il tempo, cioè il tempo è nato insieme all'universo, prima non c'era il tempo, c'era un vuoto, questo vuoto non aveva né spazio né tempo, nasce l'universo e quindi si formano improvvisamente sia lo spazio del tempo, quindi altra astrazione fenomenale per quei tempi, in realtà anche per i nostri tempi. In realtà questo signore appunto, questo signore qui Einstein, un anno dopo che ha fatto questa teoria si rende già conto che c'è qualcosa che non torna, che cos'è che non torna? È la gravità, perché la gravità è una forza molto strana, fino a quegli anni si stava cercando di capire la gravità, in realtà fino a qualche anno prima si pensava di aver capito un po' tutto quanto della fisica. Dopodiché insomma comincia a nascere, comincia a scricchiolare la vecchia fisica, non che non funzioni, funziona ancora nelle condizioni in cui si studiavano i sistemi in cui si studiavano prima, però per approssimazioni diverse, quindi per oggetti estremamente piccoli o per oggetti molto veloci cominciava a scricchiolare questa teoria. E la teoria della gravità subito dopo, quindi circa un anno dopo la nascita della realtà ristretta, la realtà ristretta non considera la gravità, però questo signore si rende conto da solo che questa teoria stava mettendo in crisi la gravità per come la conoscevamo noi. Questo perché? Perché questo signore qui appunto Einstein era un fisico teorico che però era dedito a fare esperimenti, non faceva esperimenti di laboratorio, faceva esperimenti con la mente, erano delle astrazioni sostanzialmente. E uno degli esperimenti che ha fatto è stato quello appunto del noto appunto, da cui è nato appunto il principio di equivalenza, di immaginare appunto che una persona che si trova sulla terra, se lascia cadere un sasso, questo sasso lo vede accelerare e andare verso la superficie della terra. Ma questo sistema è esattamente equivalente da tutti i punti di vista della fisica, è esattamente equivalente ad una persona che si trova chiusa dentro una scatola nello spazio senza forza di gravità che accelera con la stessa accelerazione di gravità che abbiamo sulla terra. Questi due sistemi sono completamente indistinguibili, salvo il fatto che se noi consideriamo che ci troviamo sulla superficie di una sfera, le linee di forza del campo gravitazionale non sono esattamente parallele ma sarebbero leggermente convergenti verso il centro di gravità, ma se noi consideriamo che la terra è sufficientemente piatta, diciamo, all'interno di questa scatola, non c'è nessun esperimento che ci può far capire se noi ci troviamo su un'astronave accelerata, con questa accelerazione, oppure all'interno di un campo gravitazionale. Questo cambia completamente le cose, cambia completamente le cose perché per la prima volta ci si rende conto che la forza di gravità è una forza molto strana, perché in un certo senso è come se non fosse una forza. Dieci anni dopo, sempre questo signore, questa è la teoria più bella che esiste nella fisica e probabilmente è totalmente stata fatta da questo signore, mentre le altre teorie comunque, diciamo, gli scienziati del tempo erano quasi sul punto di scoprirle. Questa teoria della realtà generale è nata completamente da lui. Lui ha dovuto sviluppare in dieci anni, quindi dal 905 al 915, ha dovuto sviluppare una serie di algoritmi matematici per cercare di descrivere questa teoria ed è bellissima questa teoria anche perché è esteticamente bellissima. Ora, per chi si occupa di fisica questa teoria, la formula di Einstein, che voi vedete qui, questa g mu nu uguale t mu, qualche cosa per chi mu nu, vedete, è una costante, un qualche cosa che è uguale a una costante per questa cosa qui. Allora, questa è una formula estremamente semplice, semplicissima, se uno vede semplicemente un qualcosa uguale a un qualche altra cosa con una costante, con quella che noi chiamiamo costante d'accoppiamento. A parte che, insomma, uno dovrebbe capire che cosa sono tutte quelle lettere, però è una teoria estremamente compatta, apparentemente semplicissima, che descrive di fatto tutto l'universo. Cioè questa formula qui è una formula irrisolvibile, descrive l'universo e la possiamo risolvere solo, adesso con grandi computer, la possiamo risolvere solo per alcuni, diciamo, facendo delle opportune approssimazioni. Però di fatto è una formula semplice, da un punto di vista teorico semplicissima, che descrive la gravità, in un certo senso. Che cosa lega questa? Allora, questa qui lega, da questa parte, questo g mu nu, quindi è un, questo è un, è un tensore, ovviamente si è scaricata la pila del, questo g mu nu è un tensore, quindi non, insomma, è un, in realtà sono 16 numeri, sono 16 variabili, rappresenta la geometria, la geometria dello spazio-tempo, quindi abbiamo da questa parte la geometria dello spazio-tempo, da quest'altra parte una costante, questa è la g che compare nella formula di Newton, c è la velocità della luce alla quarta, pi greco è pi greco, otto è un numero, t mu nu è l'energia, l'energia, il tensore viene chiamato tensore, energia e impulso. Quindi abbiamo che cosa? Una geometria che è legata a un'energia. Tutto qui, niente di più. È veramente una formula estremamente semplice. Che cosa ci dice? Questa ci dice, in un certo senso, così a naso, ci dice che se noi abbiamo, considerare che l'energia vuol dire non soltanto energia per come la concepiamo noi, ma anche la massa, la massa è energia, che la massa è l'energia, Einstein l'aveva già scoperto dieci anni prima con la teoria della realtà ristretta. Quindi questo che ci dice? Ci dice che la geometria è legata, in un certo senso, alla distribuzione dell'energia e della massa nell'universo, con una certa costante. Allora, questo in realtà è un concetto estremamente semplice, perché voi se pensate a un corpo elastico, voi immaginate un corpo elastico, questa è un'equazione, un ingegnere la descriverebbe come un'equazione di stress strain, cioè stress e deformazione. Uno stress, se io faccio uno stress su un corpo, cioè quindi impongo una certa forza, quindi do una certa energia ad un corpo, che faccio? Lo deformo. Quindi il corpo reagisce deformandosi. Quindi c'è uno stress che mi genera una deformazione, uno stress mi genera uno strain. Questa è esattamente la stessa cosa, ovviamente con le dovute cautele, perché qui abbiamo dei tensori, abbiamo dei sistemi un pochino diversi, ma di fatto la geometria è legata appunto alla materia. Quindi la materia e l'energia mi generano uno stress sullo spazio-tempo che modifica la geometria dello spazio-tempo. C'era un famoso fisico teorico, si chiama Wheeler, il quale diceva che sostanzialmente la materia dice allo spazio come curvarsi e lo spazio dice alla materia come muoversi. Quindi questa non è altro che di fatto un'equazione che ci dice che l'universo, tutto lo spazio-tempo, non è altro che un mezzo elastico. Quindi risponde alla materia e all'energia esattamente come risponderebbe un mezzo elastico quando lo colpiamo. Quindi comincia a oscillare, si deforma ed oscilla. Tutto qui. Poi chiaramente se uno va a fare il calcolo matematico è estremamente complicato, tanto è vero che dicevo che è risolvibile. Però il concetto è veramente banale. Quindi è quasi, la forza della fisica spesso è proprio questa, che si fa tanta fatica per trovare un concetto che alla fine risulta quasi banale, quasi ovvio. La cosa importante però è che questo numero qui, abbiamo detto che questo è legato a questo ma con un numero, questo numero qui è un numero che è estremamente piccolo. Allora, mentre fino ad allora, con la teoria, con lo spazio-tempo diciamo noto precedentemente, di fatto questi due erano legati, lo spazio-tempo era infinitamente rigido, cioè non poteva mai curvarsi, nel momento in cui nasce questa teoria della relatività generale, si scopre che lo spazio-tempo è un mezzo elastico che non è infinitamente rigido, ma è estremamente rigido. Questo numero è un qualcosa che va come 10 alla meno 40, quindi è un numero, considerate che è un'equazione di stress strain, per esempio per l'acciaio ci dice che quel numero è circa 10, 10 alla meno 11. Quindi è un concetto che ci dice che l'universo è un mezzo elastico ma è enormemente rigido, quindi reagisce alla massa, a masse grandi, curvandosi. Però altra cosa interessante è che ci dice che quindi la forza di gravità non è più una forza, ma è semplicemente il fatto che la materia deforma lo spazio-tempo e quindi l'altra materia si deve muovere dentro questo spazio deformato, e non soltanto l'altra materia ma addirittura la luce, tant'è vero che la luce si curva. E questa curvatura della luce è via via più ovvia, qui vedete per esempio la soluzione dell'equazione di Einstein per esempio per un sistema Terra-Sole, ma la cosa è ancora più incredibile quando noi andiamo a parlare di buchi neri, perché abbiamo una curvatura che è talmente grande che lo spazio si curva su se stesso e si richiude su se stesso. Quindi noi abbiamo una superficie che chiamiamo orizzonte degli eventi, che è la superficie limite, la superficie che si è richiusa su se stesso, all'interno di quella superficie c'è sostanzialmente una stella, ma una stella con una massa talmente grande che ha deformato e ha creato quella che noi chiamiamo una singolarità. Quindi se un corpo si trova fuori può ancora scappare dal buco nero, appena un corpo, qualunque corpo, anche la luce, entra dentro quella superficie rimane intrappolato per sempre, a parte delle fluttuazioni quantistiche di cui non ci occupiamo adesso. Per questo si chiama buco nero, buco nero perché non può uscire nulla da quella sorgente, da quella stella, quella di fatto è una stella che però è nera. Quindi fino a un po' di tempo fa, e un po' di tempo fa era il 14 settembre del 2015, noi questi oggetti non li potevamo vedere, se no come deformazione verso l'esterno, cioè noi vedevamo degli oggetti lontano dietro questo buco nero che venivano deformati perché la luce che passava vicino a questi oggetti si curvava ed arrivava a noi come se venisse da altre direzioni. Ovviamente la fisica del buco nero è una fisica peraltro affascinante, basta immaginare che per quanto ne conosciamo ovviamente, per quanto sappiamo della teoria, risolvendo l'equazione di Einstein, le variabili, il tempo diventa spazio all'interno del buco nero e lo spazio diventa tempo. Che cosa vuol dire questa cosa strana? Vuol dire semplicemente che noi fuori dal buco nero nel tempo viaggiamo solo in una direzione, il tempo può rallentare o può accelerare, però viaggia sempre solo in una direzione, non possiamo andare indietro nel tempo, però possiamo rallentare il nostro tempo se noi acceleriamo, ovviamente noi non ce ne accorgiamo perché viviamo nel nostro tempo, ma gli altri vedono il nostro tempo rallentato. All'interno del buco nero, mentre nello spazio ci muoviamo come vogliamo, all'interno del buco nero nello spazio ci si muove solo verso il centro del buco nero raggiungendolo in un tempo infinito, però nel tempo ci si può muovere ipoteticamente avanti e indietro. Quindi per questo che lo spazio diventa tempo e il tempo diventa spazio. Questo sempre questo signore, il signor Einstein, a questo punto lanciatissimo, un anno dopo scopre che la sua teoria della relatività generale appunto genera, può predire l'esistenza di onde, di onde particolari che vengono chiamate onde gravitazionali. Lui le chiama proprio onde gravitazionali. Che cosa sono queste onde gravitazionali? Sono, come vi dicevo prima, siccome l'universo di fatto, lo spazio-tempo è un mezzo-elastico, siccome si deforma, allora è chiaro che se questa deformazione varia, si genera questo, il mezzo-elastico comincia a oscillare, siccome è tutto collegato allo spazio-tempo, una propagazione e una fluttuazione in un certo punto si propaga per tutto quanto lo spazio-tempo. Quindi lo spazio-tempo è un tessuto elastico, se io genero una fluttuazione in un punto, questo tessuto elastico chiaramente comincia a oscillare. Quindi questo è il significato delle onde gravitazionali. Il problema, come abbiamo visto nella formula di prima, quel numero che ci lega l'energia o la materia alla deformazione è un numero piccolissimo, quindi serve un'energia pazzesca per generale delle fluttuazioni, delle oscillazioni rilevabili da un esperimento. E come varia appunto lo spazio-tempo? Se noi abbiamo un'onda gravitazionale che viene perpendicolare al piano dello schermo, la variazione sul piano dello schermo, se noi prendiamo tanti punti disposti su una circonferenza, è esattamente questa, cioè le distanze si accorciano e si allungano su due direzioni perpendicolari, chiaramente sfasate. Quindi una circonferenza diventa un'ellisse prima in una direzione e poi nell'altra. Quindi noi vedremmo la distanza tra noi due che si accorcia e si allunga, ci allontaniamo e ci avviciniamo a seconda della fase dell'onda gravitazionale che sta passando. Il problema è che queste fluttuazioni qui, siccome quel numeretto che abbiamo visto prima è piccolissimo, sono estremamente piccole. Quindi per eventi più catastrofici in assoluto che avvengono nell'universo, le scale, se questi due punti si trovano a un metro, senza il passaggio dell'onda gravitazionale, l'onda gravitazionale generata da eventi i più catastrofici che noi possiamo immaginare dell'universo, generano queste oscillazioni dell'ordine del millesimo di miliardesimo di miliardesimo di metro. Quindi stiamo parlando di una distanza piccolissima, 10 alla meno 21 metri. Allora quando si parla di miliardi, noi ormai il miliardo lo conosciamo tutti quanti, questo è un gioco che faccio sempre agli studenti, noi il miliardo lo conosciamo tutti, siamo tutti convinti di sapere quanto è grande un miliardo. In realtà un miliardo è un numero enorme, se io infatti vi faccio la tipica domanda quanto è spesso un libro con un miliardo di pagine, voi a occhio quanto rispondereste? Un foglio non è un millimetro, mettiamo che un foglio è circa un decimo di millimetro, sarebbe quindi 100 milioni di millimetri, quindi se noi facciamo il conto ci rendiamo conto che è enorme, perché tipicamente uno risponde un metro, 10 metri, è spesso 100 chilometri, quindi un miliardo è un numero enorme che spesso e volentieri noi non ci rendiamo conto, perché noi diamo il nome alle cose e una volta che diamo il nome siamo convinti di averle conosciute. Quindi il miliardo è un numero immenso, noi stiamo parlando di un oggetto, di una fluttuazione di un millesimo del miliardesimo del miliardesimo di metro, quindi è una fluttuazione che è enormemente più piccola di tutte le scale che la fisica fino adesso abbia studiato. Se voi considerate la dimensione di un atomo, il nucleo di un atomo è dell'ordine di 10 alla meno, sapete più o meno quanto è grande un atomo? 31, 31 no. L'ordine di grandezza è 10 alla meno 10 metri, ok? Quindi stiamo parlando, anzi no, 10 alla meno 10 metri è l'atomo, è diciamo un millesimo o 10 mila volte più piccolo, quindi arriva a 10 alla meno 14 metri. Quindi stiamo parlando di una fluttuazione che è molte volte più piccola della superficie sostanzialmente di un nucleo. Quindi chiaramente noi abbiamo dovuto fare una fatica pazzesca per riuscire a rivelare le mondi grazionali, tant'è vero che appunto sono state diciamo teorizzate nel 916 e le abbiamo rivelate nel 2016. Quindi fortuna ha voluto che ci sono voluti 100 anni esatti per rivelarle, in realtà non è vero, perché abbiamo detto 100 anni, ma 100 anni è quando abbiamo dato la comunicazione, noi la comunicazione l'abbiamo data l'11 febbraio, ma ci siamo presi del tempo perché chiaramente dovevamo verificare per bene che quello che avevamo visto fosse veramente un'onda gravitazionale, perché in realtà l'evento, come vi dicevo prima, è del 14 settembre del 2015, per la precisione alle 9.50 della mattina. Quindi a 9.50 della mattina, quel famoso 14 settembre, noi ci siamo svegliati e abbiamo visto, ci siamo svegliati un po' prima in realtà, ma abbiamo visto questa cosa che ci ha lasciato abbastanza con gli occhi sgranati. Ci sono voluti circa 100 anni però per vederla. Quindi questo è l'evento che abbiamo visto, chiaramente è una ricostruzione del computer, noi abbiamo visto due buchi neri che giravano uno intorno all'altro, fino a perde, perdevano energia perché dovevano lottare contro lo spazio-tempo, perché lo spazio-tempo doveva curvarsi, perché dovevano girare curvandosi. Poi questi due buchi neri, una volta che sono collassati, hanno generato un'onda gravitazionale che si è espansa e è arrivata fino a noi facendo oscillare la Terra. Come vi ho detto, lo spazio-tempo oscilla al passaggio dell'onda gravitazionale, quindi noi abbiamo osservato questa oscillazione della Terra. Ovviamente non è così grossa l'oscillazione della Terra, sarebbe stato facilissimo rivelarle, e questa oscillazione della Terra è un'oscillazione che è dell'ordine appunto delle scale dei miliardesimi di miliardesimi di metro. Ovviamente quel tipo di oscillazione è un'oscillazione che è enormemente più piccola di qualunque oscillazione che avviene sulla Terra. Quindi la Terra tipicamente oscilla in maniera molto maggiore rispetto a quell'oscillazione generale. Quindi lottare, cercare di fare una misura del genere vuol dire di fatto fare una misura contro tutte le oscillazioni che esistono già sulla Terra. Quindi per questo è stato complicatissimo, perché qualunque cosa succede sulla Terra è un evento enormemente più grande dell'evento che noi stiamo cercando. Quindi la tecnologia che è stata sviluppata è stata una tecnologia pazzesca per riuscire a costruire gli strumenti che fossero in grado di misurare quelle distanze, distanze dell'ordine dei miliardesimi di miliardesimi di metro. Questo vi presento l'evento che abbiamo visto, quindi abbiamo visto sostanzialmente questo tipo di segnale, questo tipo di segnale qui, quindi un'oscillazione dello spazio, dello spazio-tempo in realtà, quindi anche il tempo in realtà accelerava e decelerava, però noi lo possiamo considerare quello quasi fisso, però lo spazio invece che noi vedevamo, niente, questo continua a non dare quasi segni di vita, lo spazio che vedevamo, utilizzo il mouse, lo spazio lo vedevamo oscillare appunto con una deformazione dell'ordine di 10 alla meno 21, vedete? Quindi questo è un delta L su L, sarebbe la variazione rispetto alla lunghezza che noi stiamo misurando. Le lunghezze di questi strumenti sono dell'ordine del chilometro, quindi questo oggetto qui è dell'ordine di 10 alla meno 18 metri, il miliardesimo di miliardesimo di metro. E che cos'era quindi questo? Era un evento appunto di due buchi neri che stavano ruotando uno intorno all'altro, ruotando, perdevano un po' di energia a causa della deformazione perché faticavano per far deformare lo spazio-tempo, quindi lo spazio-tempo assorbiva un po' della loro energia per cercare di rimanere in equilibrio e i corpi acceleravano, cadevano uno sull'altro e quindi acceleravano. Acceleravano fino al punto che si avvicinavano sempre di più e a un certo punto si sono toccati. Quando questi oggetti si sono toccati erano a distanza di circa 350 chilometri. Allora, questi oggetti qui che abbiamo visto erano due buchi neri di uno 36 masse solari e un altro 29 masse solari. Quindi voi immaginate 36 soli tutti concentrati in circa 150 chilometri e 29 soli concentrati in altri circa 150 chilometri che ruotavano facendo all'inizio circa 35 giri al secondo uno intorno all'altro, quando abbiamo cominciato a vederli, per arrivare a circa 250 giri al secondo quando si sono toccati. Quindi immaginate che evento che è stato, è stato un evento pazzesco, per fortuna era molto lontano, perché se fossimo stati vicini saremmo stati veramente spazzati via da quell'energia. Quindi questi due oggetti pazzeschi ruotavano, tant'è vero che quando si sono toccati andavano circa alla metà della velocità della luce. Quindi erano oggetti massivi con una massa enorme che però si muovevano quasi alla velocità della luce. Fino a che si sono toccati e sono diventati un corpo singolo. Quindi per la prima volta quel giorno noi abbiamo visto direttamente due buchi neri, anzi in totale tre buchi neri, perché abbiamo visto qui all'inizio la fisica sostanzialmente studiando questo segnale, abbiamo studiato la fisica della rotazione una intorno all'altro di un sistema binario di due buchi neri. Dopodiché quando si sono fusi abbiamo visto quest'altra oscillazione qui. Quest'altra oscillazione qui era quello che noi chiamiamo il ring down, cioè il corpo unico che si è formato, che ha oscillato per un pochino fino a che si è fermato. Perché chiaramente non era inquiete, si è formato da un evento così catastrofico, era una specie di sfera che ha cominciato a oscillare un pochino fino a che si è fermato. Quindi questo è stato l'evento che per la prima volta è stato osservato, tramite un messaggio completamente nuovo, perché abbiamo rivelato un'onda completamente diversa rispetto a quelle che noi conoscevamo. Per questo noi tendiamo a dire che si apertano nuove finestre sull'universo, perché fino a prima di quella data tutto ciò che noi conoscevamo dell'universo era basato sulle onde elettromagnetiche, perché noi conoscevamo la luce, quindi vediamo la luce delle stelle sostanzialmente, o i vari colori, le microonde, le onde radio, i raggi X, i raggi gamma, ma sono sostanzialmente onde elettromagnetiche, niente di più che onde elettromagnetiche. Quindi i messaggi che noi conoscevamo dell'universo erano di fatto le cariche elettriche, come si muovono in un certo senso le cariche elettriche nell'universo, perché l'onda elettromagnetica è generata da una carica elettrica in accelerazione. Noi adesso abbiamo visto che cosa? Una massa in accelerazione. Quindi sicuramente le cariche elettriche hanno una massa, quindi noi possiamo vedere con le onde gravitazionali, da qui al futuro, adesso i detector sono in fase di upgrade per migliorare la loro sensibilità, però possiamo vedere, cominciata diciamo l'astrofisica gravitazionale, cioè possiamo vedere le masse in accelerazione. Quindi anche ciò che emette onde elettromagnetiche. Ma vediamo anche eventi che non emettono onde elettromagnetiche. Per esempio questo evento qui. Questo evento era un evento invisibile alle onde elettromagnetiche, nonostante sia così catastrofico non emette onde elettromagnetiche. Quindi per noi è un evento che non esiste, non esisteva fino a prima del 14 settembre del 2015. Quindi di fatto noi abbiamo visto un qualche cosa nell'universo utilizzando un sistema, è come se noi avessimo, fossimo stati diciamo sordi fino al 14 settembre e improvvisamente siamo diventati, abbiamo potuto ascoltare un suono. Chiaramente adesso abbiamo ascoltato un primo suono, ma ci aspettiamo chiaramente di cominciare ad ascoltare i vari suoni, la musica in un certo senso dell'universo. È come se avessimo acceso il sonoro, l'audio all'universo. Quindi ci aspettiamo non solo di vedere altri eventi di questo genere, ma ci aspettiamo quindi di capire per esempio, siccome noi dell'universo conosciamo, già ve l'ho accennato con quell'immagine della galassia, conosciamo soltanto una parte, perché noi dall'equazione di Newton sappiamo che le galassie ci nascondono qualcosa perché c'è una buona massa che noi non vediamo, non sappiamo che esiste, per la dinamica di come ruotano le stelle intorno al centro della galassia. Quindi c'è una massa mancante che chiamiamo materia oscura per esempio, ma da altre osservazioni sappiamo per esempio che c'è un'energia oscura, c'è una qualche altra energia che non è massa ma che è presente nell'universo perché sappiamo attraverso analisi di vario genere che c'è qualcosa e sappiamo quasi per certo che noi conosciamo dell'universo solo il 5%, anzi un po' meno del 5%, quindi quasi il 95% dell'universo ci è completamente ignoto. Con le onde galassionali sicuramente potremmo fare un grande passo avanti per riuscire a vedere un'altra bella fetta di quel 95%. Per questo si è aperta di fatto una nuova finestra sull'universo. Quindi questi sono i dettagli, solo per dare un'idea, i dettagli dell'evento che abbiamo visto, abbiamo quindi un buco nero di 36 masse solari, un altro di 29 masse solari, sono oggetti pazzeschi per chi in una dimestichezza va sicuro sono oggetti pazzeschi. Questi due oggetti insieme hanno formato un buco nero di 62 masse solari. Ora basta fare il conto e vedete subito che 36 più 29 fa 65 masse solari. Quindi tre masse solari, il Sole è enorme, tre masse solari sono servite solo per generare deformazione dello spazio-tempo. Quindi l'energia di tre soli è finita, dispersa a causa dell'oscillazione della struttura dello spazio-tempo. Questi due eventi si trovavano, questo evento, questi due buchi neri si trovavano a una distanza di circa un miliardo e mezzo di anni luce. Quindi è un evento che è avvenuto un miliardo e mezzo di anni fa, quando sulla Terra c'erano i primi protozoi. Quindi quando sulla Terra c'erano i primi protozoi è successo questo evento che noi abbiamo rivelato oggi. Come è stato fatto? Allora, questa è una bella storia, una bella storia perché la scienza è un mondo, diciamo, governato da regole abbastanza diverse rispetto alla società in cui viviamo. Perché? Perché allora fino al 2004 avevamo due esperimenti diversi, un esperimento negli Stati Uniti, LIGO, formato da due detector, uno si trova nello stato di Washington vicino Seattle e un altro si trova nello stato della Louisiana vicino Baton Rouge che è la capitale della Louisiana. E c'era un secondo esperimento con un terzo detector che si trova in Italia, appunto come dicevamo prima, vicino Pisa, Cascina. Erano fino al 2004 due esperimenti diversi, tre detector in due esperimenti diversi in cui c'era sostanzialmente come in tutti gli esperimenti, una sorta di concorrenza per chi vedeva prima, era una sorta di gara che avrebbe visto prima le onde gravitazionali. Solo che dopo i primi dati, quando abbiamo cominciato a lavorare, diciamo, noi in Italia, l'esperimento in Italia in realtà non è italiano, ma era a quel tempo metà italiana e metà francese. Adesso è un esperimento un po' più europeo perché c'è quasi sostanzialmente la metà ancora italiana, un po' meno della metà e il francese però è entrata anche l'Olanda, la Polonia e l'Ungheria. Questo, diciamo, fino al 2004 quando abbiamo fatto analisi dati siamo resi conto che era estremamente difficile riuscire ad ottenere l'obiettivo. Quindi le due comunità, quella americana e quella europea, si sono unite per formare sostanzialmente un solo esperimento. Quindi questo è un grande messaggio che dà la scienza di fatto. Cioè per ottenere un risultato bisogna unirsi. Perché questi esperimenti sono esperimenti talmente complicati che hanno bisogno di competenze pazzesche in tutti i rami della scienza, ingegneria, fisica, matematica, tecnologia di vario genere, analisi dei dati, eccetera, che bisogna unirsi, bisogna fare squadra. Quindi questi due esperimenti sono diventati un esperimento unico. Dal 2004 di fatto abbiamo lavorato in parallelo scambiandoci le informazioni, quindi noi abbiamo dato a loro le nostre competenze, loro hanno dato a noi le loro competenze e quindi sono nati tre detector dello stesso esperimento che si chiama Laigo Virgo. In una comunità è fatta la comunità Laigo Virgo. Poi c'è un detector un po' più piccolino in Germania che in realtà serve soltanto per fare ricerca e sviluppo perché non è in grado di vedere le onde gravitazionali. E adesso i giapponesi si sono uniti alla ricerca, stanno facendo un esperimento più avanzato, un bel esperimento all'interno di una miniera sottoterra, 1500 metri sottoterra, criogenico addirittura, quindi un esperimento molto avanzato. E chiaramente per fare quello hanno chiesto le nostre competenze, per esempio noi del gruppo di Perugia adesso lavoriamo anche per l'esperimento giapponese. Quindi c'è questa rete a terra. Per quale motivo fare una rete anche, oltre il fatto che è più facile? È importante fare una rete perché a noi non interessa soltanto vedere l'onda gravitazionale, ci interessa anche vedere dov'è, da dove parte questa onda gravitazionale, identificare il punto, perché nel momento in cui noi riveliamo l'onda e diciamo che l'abbiamo rivelata in quel punto dello spazio, tutti gli esperimenti, per esempio, di onde elettromagnetiche possono puntare i loro telescopi e vedere che cosa c'è in quel punto. Quindi di fatto è nata appunto l'astrofisica gravitazionale che è estremamente legata a tutto il resto dell'astrofisica, perché noi possiamo vedere cose, come abbiamo detto, che non sono nel campo delle onde elettromagnetiche, ma anche cose sovrapposte. Quindi è importantissimo per riuscire a svelare i segreti dell'universo, riuscire a fare corpo anche con gli esperimenti delle onde elettromagnetiche. Qui sono delle immagini di questi, diciamo, grandi microfoni, a me piace chiamarli grandi microfoni in un certo senso, perché appunto le onde gravitazionali sono quasi, diciamo, sono più vicine alle onde acustiche che non a delle onde elettromagnetiche. Vedete qui abbiamo nel deserto dello stato di Washington, vediamo l'esperimento uno dei due laico, l'altro si trova in mezzo a una foresta della Louisiana, due posti infami, francamente va sicuro che sono dei posti dove è bene rimanere chiusi dentro questi esperimenti piuttosto per uscire fuori. Qui considerate che c'era un coccodrillo che girava nel, c'era un fiumiciatolo che stava lungo uno dei bracci di questo esperimento e c'era questo coccodrillo che ormai faceva compagnia a chiunque andava lì allo strumento. Quindi diciamo sono zone abbastanza impervie. Questa zona qui è un pochino meno impervia, è la zona tra Pisa e Livorno dove c'è questo detector. Pisa si trova in questa cittadina qui in fondo. E questo qui invece è l'esperimento anglo tedesco. Come vedete quindi sono due oggetti, sono tre oggetti a L, quattro in realtà con questo piccolino a L, questi sono lunghi 4 chilometri, due laico e Virgo invece lungo 3 chilometri. Sono sostanzialmente molto simili come strumenti. Questa è una fotografia di Virgo, certamente possiamo dire che è il più bello di tutti essendo per metà italiano è sicuramente il più bello degli altri esteticamente, ma questo è riconosciuto da tutta la comunità. Quindi vedete qui giù c'è Pisa e dall'altra parte c'è Livorno, quindi l'esperimento si trova in mezzo tra Pisa e Livorno, quindi va sicuro che è abbastanza complicato. Lo schema dell'esperimento è questo qui, è un interferometro. L'interferometro che vuol dire? Che noi mandiamo la luce, utilizziamo il laser, la luce è un'onda, quest'onda viene sparata dal laser verso uno specchio che è semitrasparente, che noi chiamiamo beam splitter, che divide il fascio luminoso in due parti, una parte attraversa lo specchio semitrasparente, un'altra parte viene mandata a 90 gradi su quest'altro tubo. Arrivano in fondo a questi due tubi lunghi 3 chilometri, torna indietro, quindi questa luce ritorna indietro e si ricombina sullo specchio semitrasparente, quindi una parte di questa combinazione di due fasci se ne va verso il rivelatore. Allora, lo scopo del gioco, vi ho detto, è rivelare queste oscillazioni, che sono oscillazioni di 10, per questo oggetto qui, del 10 alla meno 18 metri, quindi il miliardesimo di miliardesimo di metro. Quindi vuol dire che tutto questo braccio di 3 chilometri si allunga e si accorcia del miliardesimo di miliardesimo di metro. Ora, il problema però è che con questo strumento, con questa sensibilità, noi siamo in grado, per esempio, anzi, siamo dominati in certe regioni di frequenze, per esempio, dalle onde del mare. Cioè un'onda del mare Pisa si trova a circa 30 chilometri dal mare. A 30 chilometri le onde del mare sbattono sulla costa, generano un'oscillazione della crosta terrestre, della placca, diciamo, dell'Italia. E questa oscillazione si propaga e noi la vediamo. Vediamo l'oscillazione delle onde che sbattono a 30 chilometri di distanza. Ma vediamo l'oscillazione delle onde anche che sbattono in Portogallo o al nord della Francia. Quindi questo è un esperimento che vede di fatto tutte le oscillazioni che noi neanche ci facciamo un'idea di quali possano essere. Immaginate, noi ci troviamo a circa 100 metri, 150 metri da una superstrada. Noi vediamo le macchine che passano. Riusciamo a distinguere perfettamente le macchine che stanno passando. Ci hanno costruito delle paleoliche a circa 2 chilometri di distanza. Vediamo la rotazione delle paleoliche. Quindi nel momento in cui voi avete un oggetto del genere, che è un metro di fatto pazzesco, voi vedete una quantità di oscillazioni enormi, che sono enormemente più grandi di quelle che voi volete misurare. Quindi l'enorme tecnologia, lo strumento questo è un strumento semplice, un strumento che in quasi tutti i laboratori fisici è presente, è un interferometro, quindi la luce che interferisce con se stessa. Però a quelle scale chiaramente è complicatissimo. Tant'è vero che gli specchi di questo strumento sono sospesi ad una catena molto particolare, una catena di pendoli che serve per smorzare tutte queste oscillazioni. strumenti. Quindi questo è un pendolo invertito, cioè abbiamo questa massa qui che è sospesa a tre grandi colonne, è alto circa 10 metri, quindi il suolo vibra alla base di questa torre, la testa della torre vibrerà un pochino meno perché fa da filtro meccanico e poi ogni stadio di pendolo fa da filtro meccanico ancora. Quindi è una tecnologia che è stata sviluppata che è pazzesca. Tutto questo perché questo specchio deve rimanere fermo per 10 a meno 18 metri. Considerate per esempio la temperatura. Questo oggetto si trova alla temperatura ambiente, la temperatura è fluttuazione degli atomi, è dinamica. Quindi noi siamo dominati dagli atomi che oscillano, perché gli atomi oscillano molto di più di 10 a meno 18 metri. Quindi quello che succede sostanzialmente è questo, abbiamo che il nostro fascio di luce si divide in due fasci, arriva agli specchi finali, questi oscillano a causa del passaggio dell'onda gravitazionale. Siccome la luce è un'onda, la lunghezza d'onda, noi in realtà parliamo di luce ma quella che stiamo utilizzando dentro gli esperimenti è negli infrarossi, quindi non si vede, è un laser a infrarossi, che ha una lunghezza d'onda del micron. Considerate che la potenza di quel laser, questo è un laser che ha 10 mW se non sbaglio, 5 mW, sono i laser commerciali. Il laser all'interno di questi 3 km è 100 kW, cioè c'è una potenza pazzesca, voi mettete la mano lì dentro e evapora. Quindi è bene che sia nel vuoto e che non ci sia il laser, non venga puntato contro qualcuno. Però sostanzialmente quello che noi facciamo, abbiamo i due fasci, i due bracci che sono sfasati di mezza lunghezza d'onda, quindi inquiete, il sistema non dà luce in uscita, perché c'è interferenza distruttiva, al passaggio dell'onda gravitazionale noi vediamo la luce che oscilla, una luce che si accende e si spegne. Chiaramente non è così semplice, vediamo sempre la luce che si accende e si spegne a causa dei rumori, però siccome abbiamo studiato tanto per cercare di capire che cosa vedere, siamo riusciti anche a capire quali sono le onde elettromagnetiche gravitazionali e quali invece non sono onde gravitazionali. Quindi lì chiaramente bisogna lottare contro tutti questi, in realtà questi sono solo alcuni, sono i principali, contro le sorgenti di rumore, quindi di fatto è una lotta contro il rumore. Rumore per un fisico non è il rumore acustico soltanto, non è un fastidio, un suono fastidioso, rumore è un qualunque segnale non deterministico che genera quindi delle fluttuazioni che non possono essere predette, quindi il rumore è di per sé impredicibile, è un po' una bestia nera della fisica. In genere la fisica si fa per approssimazioni, si prende qualche cosa che si dice che è rumore, lo si prende, si mette sotto il tappeto e si studia il sistema non rumoroso. Noi purtroppo abbiamo dovuto studiarcelo quel rumore. E il rumore come si studia? Si studia con analisi statistica, si studia capendo che cos'è che lo ha generato, quindi la fisica del rumore è una fisica complicatissima perché è una fisica altamente non lineare, però ci si possono fare anche cose molto interessanti, per esempio con il rumore, noi da Perugia siamo uno dei due laboratori più importanti per quanto riguarda la fisica del rumore. Utilizziamo per esempio il rumore per fare anche detection, cioè noi abbiamo scoperto insieme a un gruppo di Roma negli anni Ottanta, poi questa cosa l'abbiamo sviluppata noi qui, che si può utilizzare il rumore per migliorare uno strumento di misura piuttosto che, perché se non c'è rumore noi magari non riusciamo a vedere un segnale, se c'è troppo rumore il segnale è nascosto dal rumore, però se c'è una giusta dose di rumore l'energia di quel rumore ci può aiutare per rivelare il segnale. Questo è per esempio un trucco per cui il rumore diventa una cosa positiva. Ovviamente dentro Virgo invece il rumore è quasi soltanto una cosa negativa, quindi dobbiamo cercare di fare in modo di capire quali sono i sorgenti rumore per cercare di isolarle. Isolarle vuol dire non soltanto filtrarle e non farli dominare, vuol dire per esempio spostarli in alcune regioni di frequenze, per esempio dove non ci interessano, per ripulire altre regioni di frequenze. Per esempio un rumore tipico contro cui non si può fare nulla è il rumore termico, appunto, come dicevo prima, il rumore termico se uno sta a una certa temperatura il rumore quello è, le oscillazioni quelle sono, però ci sono dei trucchi appunto per riuscire a prendere quell'energia rumorosa in un certo senso, spostarla per far sì che nella zona dove si sta spostando lì il rumore sia molto minore. Quindi sono una serie di tecniche che sono state sviluppate per lo più per questo esperimento, per cui l'altro messaggio estremamente importante è che un esperimento del genere che è costato, se voi sommate laico e Virgo, è costato circa un miliardo di dollari, che non è una cifra alta, perché se considerate un miliardo di dollari nella vita comune, tra virgolette, ci si costruiscono due o tre macchine di Formula 1 per tutta la stagione, non è che stiamo parlando di cifre particolarmente grandi, chiaramente a livello scientifico sono cifre abbastanza alte, però questa cifra in realtà ha dato come conoscenza e come brevetti per esempio una quantità di know-how che è stata utilizzata anche per un sacco di altre applicazioni. Le sorgenti rumore tipicamente, almeno quelle principali, agiscono appunto, il rumore sismico agisce per esempio su tutte le sospensioni degli specchi, il rumore termico è un rumore che avviene diciamo chiaramente per l'oscillazione degli specchi principali, soprattutto dall'esperimento, e un'altra sorgente di rumore per esempio è il radiation pressure, cioè il fatto che la pressione di radiazione, i fotoni, la luce è di fatto una particella, massa zero, ma è di fatto una particella che ha una sua energia, i fotoni che sbattono sugli specchi, nonostante questi specchi pesino 40 kg, li spostano e li fanno oscillare con un'oscillazione che è enorme pure quella. Quindi ci sono una serie di rumori di cui io non si aspetterebbe mai l'esistenza se non lavorando a queste scale. Ora, visto che siamo qui vicino, qual è il ruolo di Perugia? Allora, intanto vi dico che il ruolo di Perugia è nella minimizzazione di questi rumori, soprattutto per esempio il rumore termico, vi parlavo appunto del laboratorio di rumori che si trova appunto nel Dipartimento di Fisica, e nella realizzazione dei sistemi di sospensione degli specchi, ma un'altra cosa per esempio è che gli specchi dello strumento, noi li andiamo a lavorare, questi vengono lavorati, diciamo viene fatto un polishing, cioè una lavorazione superficiale estremamente accurata dal laboratorio di Ione, è un laboratorio che è stato costruito apposta per questi detector che adesso vende specchi anche in campi più disparati, anche campi militari, e voi immaginate che la precisione della qualità superficiale è come se noi avessimo una superficie di 100 chilometri con una fluttuazione massima in altezza di circa un millimetro, quindi voi avete 100 chilometri con una planarità per 100 chilometri all'interno del millimetro, quindi è pazzesco. Il laboratorio che lavora su questo appunto è stato costruito da Virgo a Lione, quindi anche gli specchi di Laigo sono gli specchi che facciamo noi, e vengono il dirigente per esempio di questo, il responsabile di quel laboratorio è una persona che viene da Foligno, che si è diplomato all'ITIS di Foligno, questo per darvi un'idea, che si è laureato a Perugia e poi adesso si trova lì a Lione. Quindi le competenze nate a Perugia sono competenze che sono state fondamentali chiaramente per questi detector, siamo abbastanza orgogliosi di questo. Ovviamente noi, altra cosa interessante è che noi coordiniamo i progetti futuri, perché non ci vogliamo fermare a questi detector, ma vogliamo fare detector futuri, e quindi a Perugia c'è il coordinamento dei progetti futuri per onde gravitazionali. Qui vedete delle immagini di uomini mascherati che lavorano su questi specchi, gli specchi di questo esperimento sono quei cilindri lì, qui li vedete rossi perché avevano delle protezioni per proteggere la superficie, qui eravamo appunto a Cascina, stavamo montando, questo è un altro tecnico, anche lui è un tecnico di Foligno, così tanto per darvi un'idea. Qui stavamo realizzando la sospensione di questi specchi che poi andavamo ad attaccare a questa catena alta a 10 metri di pendoli, e qui stavamo lavorando su degli incollaggi particolari fatti a Lione, quindi il responsabile di questo laboratorio era appunto lei ancora, quest'altro Cagnoli, non so se qualcuno di voi lo conosce. E qui appunto, alla fine della sospensione, ci siamo ritrovati questa fotografia, che è una fotografia ufficiale di Einstein, che era presente con noi alla sospensione del primo specchio, questo era il primo specchio realizzato per Virgo, eravamo molto fieri di questa cosa e qualcuno ci ha messo una sovrapposizione di questo, vestito in maniera impropria però questo personaggio che si è infilato tra di noi. Quindi diciamo che sicuramente Einstein a 100 anni dalla sua teorizzazione può essere abbastanza soddisfatto. Quindi ho finito, se ci sono domande fatele pure. Domande? Ecco qua, le mie domande sono tre, tre curiosità. La prima è quella dei buchi neri, essendo massa abbiamo detto che è energia. L'uomo nel futuro potrà utilizzare questo serbatoio di energia? Secondo, si possono definire le onde gravitazionali ancora il respiro del Big Bang, no? In alcune riviste si sottolinea questo aspetto. L'altro invece è un po' provocatoria. Ci può essere un legame tra conoscenza e ateismo? Grazie. Allora, la prima, se si possa utilizzare l'energia di questi buchi neri in un futuro, io non saprei come rispondere ovviamente a questa domanda. Posso provare a lavorare di fantasia. Il problema è che i buchi neri per fortuna si trovano molto lontani da noi, quindi già raggiungerli, raggiungere la stella più vicina al momento non siamo in grado, insomma siamo in grado di raggiungere questi sassi che ruotano intorno al sole, ma poco di più. Riuscire ad arrivare alla stella più vicina che si trova a circa 4 anni luce, insomma ci vuole già parecchio tempo. Arrivare al buco nero che si trova per esempio al centro della galassia, che è quello più vicino che noi conosciamo, che sembra essere lì, quindi è ipotetico, tutti i dati sembrano confermare questa cosa, però sembra esserci questo buco nero al centro della galassia, ci vorrebbero comunque enormi, cioè una quantità di generazioni pazzesche, non so se probabilmente prima della fine del sole noi riusciremo mai ad arrivarci. Quindi utilizzare l'energia che è presente sul buchi neri la vedo complicata, anche perché la vedo complicata a tirarla fuori questa energia. Certamente però la conoscenza dei buchi neri può essere utile ipoteticamente nel momento in cui noi magari riuscissimo a farci in casa dei mini buchi neri, queste ci sono delle teorie, dei mini buchi neri essendo la massa energia noi riusciamo a generare massa per esempio accelerando della materia e facendola collidere, quindi ipoteticamente noi possiamo generare dei buchi neri che poi se sono piccoli riescono anche a evaporare velocemente. Allora questa potrebbe essere una strategia, però la vedo comunque talmente lontana, enormemente più lontana rispetto a tutte le altre ipotesi che abbiamo per generare energia o per utilizzare energia. Però sì, dal punto di vista teorico potrebbe esserci una strada. La seconda domanda era il respiro del Big Bang. Sì, sicuramente sì, nel senso che uno dei motivi per cui dicevo che è una nuova finestra sull'universo è proprio questo. Allora, per quello che sappiamo noi oggi dell'universo, allora l'universo sembra essere nato da una fluttuazione del vuoto, che è questo Big Bang, quindi c'era il vuoto, che a un certo punto per una fluttuazione ha generato, legato dall'equazione di Heisenberg, quindi delta E per delta T maggiore o uguale di un certo numero, molto piccolo, ma comunque maggiore o uguale di un numero, non zero insomma almeno, si può generare una piccolissima quantità di energia che rimane per un tempo enormemente lungo. Ora l'universo ha una piccolissima quantità di energia, la somma di tutta l'energia dell'universo è estremamente piccola, quindi è di fatto una fluttuazione del vuoto, estremamente piccola perché c'è l'energia cinetica, eccetera, ci sono una parte di energia che sono positive e una parte di energia che sono negative, quindi la somma dell'energia dell'universo è di fatto circa zero. Per questo questa è la teoria alla base del Big Bang, è nata una fluttuazione che rimane per un tempo molto lungo fino a che come è nata probabilmente sparirà, secondo una delle ipotesi, purtroppo io non sarò lì a vederlo, temo neanche nessuno di quelli presenti nella stanza. Però appunto dopo che è nato l'universo tutto ciò che noi conoscevamo, dicevo, era legato alle onde elettromagnetiche, ma le onde elettromagnetiche sono nate quando? Quando è nata la carica elettrica e la carica elettrica si è formata 300 mila anni dopo il Big Bang, quindi noi per 300 mila anni non abbiamo informazioni, non avevamo informazioni, se guardavamo solo le onde elettromagnetiche, tant'è vero che gli esperimenti che studiavano la radiazione di fondo cosmico arrivavano fino a 300 mila anni dopo il Big Bang. Invece con le onde gravitazionali, siccome noi vediamo la massa, la massa è nata a 10 alla meno 35 secondi dopo il Big Bang. Quindi se noi riuscissimo a vedere le fluttuazioni primordiali dovuti alle onde gravitazionali primordiali avremo informazioni di quello che è successo oltre dopo i 300 mila anni insieme alle onde elettromagnetiche ma anche ai primi 300 mila anni fino a 10 alla meno 35 secondi dopo il Big Bang. Chiaramente il fenomeno che noi abbiamo visto e abbiamo osservato è un fenomeno che è relativamente recente perché è appunto un oggetto di un evento che è successo un miliardo e mezzo di anni fa. Però ipoteticamente noi con dei detector più sensibili potremo arrivare a studiare la radiazione gravitazionale di fondo cosmico che ci darebbe informazioni sostanzialmente direttamente del Big Bang perché 10 alla meno 35 secondi è di fatto il Big Bang in un certo senso. La terza domanda è se la conoscenza può tra conoscenza e ateismo. Allora io questo ognuno di noi può rispondere secondo la propria opinione. Io posso dare la mia che sicuramente è diversa anche da altre persone che lavorano nel campo della scienza. Cioè il mondo scientifico è un mondo che è statisticamente agente di tutti, è un campione statistico della società quindi ci sono persone che credono, persone che non credono eccetera. Io personalmente ho difficoltà a conciliare un dogma con la scienza, questo sicuro, perché personalmente ritengo che nel momento in cui uno debba indagare i misteri più profondi dell'universo con la ragione, astenere la ragione per un argomento è quasi un... diciamo in un certo senso lo scienziato dovrebbe per sua natura astenersi. Nel momento in cui non sa una risposta dovrebbe dire non lo so. Cioè secondo me l'enorme valore che ci dà la scienza non è sulle domande alle quali diamo risposte ma sull'umiltà che abbiamo nel dire non lo so. Quindi la mia posizione è io a domande diciamo alle quali formalmente non possiamo dare una risposta razionale tenderei a dire non lo so, non vedo perché appiccicare un dogma che in un certo senso mi contraddirebbe in un certo senso il principio di base del lavoro in un certo senso. Astenere la ragione per qualche aspetto è un rischio che uno poi in un certo senso possa inserire un bias nel resto delle sue ricerche quindi io tenderei... però questo ripeto è un mio rispetto insomma all'opinione di tutti quanti e questa è una mia posizione quindi faccio difficoltà a conciliare scienza e religione. Nonostante la scienza e la religione siano due argomenti completamente diversi perché appunto uno si basa sulla ragione ecco trovo completamente strano il voler spiegare con la ragione la religione questo sì oppure voler spiegare con la ragione l'ateismo trovo più corretto dire non lo so perché devo sbilanciarmi in certe risposte se non ho la possibilità di rispondere. Quindi questa però rispetta la mia opinione. Due rapidissime domande. Uno si può pensare di portare i rivelatori fuori dalla terra come hanno fatto ad esempio con Hubble con altri telescopi per ridurre questo rumore? Prima cosa. Seconda cosa come si propagano le onde gravitazionali? Cioè bisogno di un mezzo perché l'universo è anisotropo. Io non insegno fisica però di solito i fisici dicono o nel vuoto come le onde elettromagnetiche o nel mezzo come le onde sonore. Come si propagano? Grazie. Allora la prima domanda sì è possibile è possibile fare un esperimento nello spazio anzi ci si sta già lavorando. Peraltro noi di Perugia abbiamo lavorato per diversi anni sul progetto che è il cui primo satellite è partito l'anno scorso. L'anno scorso verso la fine dell'anno è partito un satellite si chiama ELISA. Il progetto si chiama ELISA. Satellite di prova per costruire un interferometro di questo genere nello spazio. Nello spazio vicino alla terra in realtà. Mentre quelli a terra hanno la lunghezza appunto del chilometro, quindi 3 chilometri o 4 chilometri. Anche quello giapponese sarà lungo 3 chilometri. Si parla, si comincia a indagare se fare progetti futuri a terra di 20 o 40 chilometri ma sembra infattibile perché in realtà un gioco non vale la candela. Invece nello spazio l'esperimento che si spera di costruire entro il 2030 sarà fatto con tre satelliti a distanza di un milione di chilometri uno dall'altro. Quindi sarà un interferometro con bracci di un milione di chilometri. Inizialmente quando ci lavoravamo di Perugia l'esperimento era per metà NASA e per metà ESA. Quindi per metà americano e per metà dell'Agenzia Spaziale Europea. Dopodiché la NASA ha deciso di tagliare fondi perché non aveva più soldi. Quindi l'Agenzia Spaziale Europea ha vissuto momenti molto migliori rispetto alla NASA e ancora li sta vivendo. E quindi è potuto andare avanti da sola su questo progetto, rimodulandolo un pochino ma è andata avanti da sola. Noi di Perugia ci siamo assenuti per un po' di anni perché abbiamo dovuto lavorare chiaramente, il tempo è una realtà finita e quindi abbiamo dovuto lavorare su Virgo e non abbiamo più tempo di lavorare su Lisa, però adesso probabilmente ci potremo rimettere in gioco anche su ELISA che è il progetto europeo. Già ci sono dei segnali che visto che le onde gravitazionali sono state rivelate la NASA sta cominciando a pensare di rientrare su quel progetto. Quindi diciamo sì, c'è anche un progetto cinese che sta andando abbastanza avanti per riuscire a realizzare un interferometro in uno spazio, quindi diciamo ci sono energie per farlo. La seconda domanda, beh le onde gravitazionali si propagano in realtà nello spazio-tempo, quindi tecnicamente il mezzo di fatto è lo spazio-tempo, quindi è quello che noi definiamo vuoto, cioè per un astrofisico in realtà il vuoto è un'altra cosa perché il vuoto è l'assenza di tutto anche dello spazio-tempo, però se invece noi intendiamo il vuoto come l'assenza di materia, appunto come la luce che si propaga nel vuoto, allora sì, anche l'onda gravitazionale si propaga nel vuoto, perché il tessuto, il mezzo stesso è di fatto lo spazio-tempo, quindi è proprio l'oscillazione dello spazio-tempo, quindi non ha bisogno di altro mezzo se non dello spazio-tempo, dell'esistenza dello spazio-tempo. Fuori dall'universo l'onda gravitazionale non si può propagare, perché mancano sia lo spazio che il tempo chiaramente. Allora, dalla previsione della relatività generale la velocità di propagazione è quella della luce. In realtà ci sono altri modelli, perché noi parliamo sempre delle teorie diciamo più note, in realtà ci sono una quantità di teorie parallele che sono meno note, hanno avuto meno successo e che al momento insomma sono meno note anche perché appunto avendo avuto meno successo, alcune sono state già scartate. Al momento tutto sembra confermare che viaggino alla velocità della luce. Non l'abbiamo ancora scartate le altre teorie, nel senso che appunto come dicevo prima non possiamo dare per scontato che sia vera quella, quindi continuiamo a tenere in degna considerazione anche teorie simili a quelle della relatività generale, cioè abbastanza simili chiaramente, perché questo ha dato parecchie conferme, però insomma quelle più interessanti che stiamo tenendo in considerazione che prevedono appunto una propagazione diversa quella della velocità di luce. Però diciamo tutti i segnali lasciano pensare che effettivamente la teoria della relatività generale originale sia quella corretta. Scusi, visto che si è parlato di buchi neri, ci vuol dire qualcosa a proposito dell'evaporazione di Hawking? E quando e perché si innescano oggetti di materia dai buchi neri? Che hanno una lunghezza, come ho letto, anche 5.000 anni luce. Allora, io non sono un esperto della teoria dei buchi neri. Noi lavoriamo su un settore, chiaramente come dicevo gli esperimenti pre-ondecrazionali sono fatti da tante persone che ognuno si occupa del suo campo. Quindi io posso dare le conoscenze che ho io ma fermarmi lì. Quindi non sono un astrofisico dei buchi neri, quindi dovrebbe chiedere questa cosa a un astrofisico dei buchi neri. Per quanto ne so io, allora, l'evaporazione dei buchi neri è legata alla meccanica quantistica, cioè applicare la meccanica quantistica alla fisica del buonero. Quindi sulle scale, su piccole scale, noi possiamo considerare che fuori dell'orizzonte dell'evento si possano generare come ovunque, diciamo, nello spazio-tempo e nel vuoto, diciamo, nel vuoto di materia. Si possono generare, per il principio di determinazione, particella e antiparticella per un certo tempo che poi si riannichilano. Ora, siccome ci troviamo vicino invece a un oggetto che è molto particolare che è il buonero, queste fluttuazioni di materia e antimateria possono generare delle fluttuazioni del vuoto che in realtà rimangono anche per tempi molto lunghi. Perché? Perché una delle due particelle viene attratta dal buonero. Quindi se una fluttuazione del vuoto avviene alla periferia, proprio vicino all'orizzonte degli eventi, succede che una delle due particelle che è nata cade nel buonero e l'altra rimane fuori. Quindi tecnicamente nell'equilibrio dell'universo noi possiamo dire che di fatto è come se la particella che è rimasta fuori sia stata emessa dal buonero. Perché tecnicamente noi per la meccanica antistica non possiamo che aspettarci che la particella che è entrata dentro il buonero si annichili con un'altra particella, perché l'energia deve rimanere quella, non possiamo generare energia dal nulla. E quindi il principio di indeterminazione applicato alla fisica dei buchi neri genera l'evaporazione dei buchi neri. E' stata anche verificata non con un'osservazione ma con delle analisi elettromagnetiche, sembra essere una teoria verificata o almeno attendibile. Però ovviamente per buchi neri molto piccoli, stiamo parlando di buchi neri dell'ordine dei millimetri, insomma oggetti molto piccoli. Per quanto riguarda i getti io mi asterrei, nel senso, comunque cosa le dico, i getti sono generati da materia che cade, cariche elettriche sostanzialmente che cadono, creano dei vortici, questi vortici generano delle radiazioni e queste radiazioni si espandono lungo l'asse di questo vortice. Questa è fisica di base che io conosco, oltre a fisica di base però non mi permetto di giudicare perché non sarebbe serio, quindi non posso risponderle. Bene, allora io ringrazio il professore per averci fatto fare questo viaggio tra le onde gravitazionali per essere stato oggi con noi. Ringrazio voi per aver preso parte alla conferenza e spero che in questi giorni sarete presenti anche alle altre attività organizzate dalla manifestazione. e appunto vi ringrazio ancora e auguro a tutti una buona giornata. Grazie a tutti.